In questo video tutorial vedremo come modificare il proprio indirizzo di residenza sul portale Fastit. Andiamo sul sito del Consolato Generale d'Italia Parigi, scorriamo in basso e clicchiamo sul pulsante Fastit. Per effettuare il cambio di indirizzo di residenza dobbiamo essere iscritti Aire. Se abbiamo effettuato l'iscrizione tramite Fastit, potremo effettuare il login per procedere. Se non abbiamo mai utilizzato il portale Fastit, ossia se l'iscrizione non è avvenuta tramite Fastit, dovremo effettuare la registrazione, quindi creare un profilo. In questo video tutorial procederemo al cambio di indirizzo di residenza di Giulia Bianchi, per cui abbiamo già effettuato l'iscrizione all'Aire su Fastit in un precedente video tutorial. Il profilo è già stato registrato, quindi clicchiamo su login. Utilizziamo le credenziali definite in fase di registrazione e accediamo. Nella home page troviamo le nostre pratiche, qui infatti compara la pratica relativa all'iscrizione all'Aire. Per richiedere la variazione di indirizzo di residenza clicchiamo su Anagrafe Consolare e Aire. Nel caso in cui avessimo appena creato un profilo sul portale, ossia nel caso in cui la nostra iscrizione Aire non sia avvenuta tramite il portale Fastit, dobbiamo richiedere l'accesso alla nostra scheda anagrafica cliccando qui. Per ottenere l'accesso sarà sufficiente inviare un documento d'identità e aspettare la validazione dall'operatore Consolare. Una volta ottenuta l'autorizzazione si potrà procedere con la variazione della propria residenza. In questo tutorial abbiamo già accesso alla nostra scheda anagrafica, avendo effettuato l'iscrizione all'Aire su Fastit. Quindi passiamo direttamente alla comunicazione della variazione della nostra residenza. Leggiamo le istruzioni e richiediamo il servizio. Leggiamo e accettiamo l'informativa sulla privacy e continuiamo. In questa pagina troviamo i nostri dati anagrafici e la residenza attuale. Procediamo quindi alla compilazione delle voci relative alla nostra nuova residenza. In questo tutorial richiediamo una variazione di indirizzo di residenza all'interno della stessa circoscrizione consolare, quella di Parigi, in questo caso da Parigi a Brest. Se si intende effettuare una variazione di residenza di tutto il nucleo familiare dichiarato, saranno da spuntare tutte queste caselle. Se invece la variazione riguarda solo l'utente richiedente, allora le caselle non saranno da spuntare. Continuiamo e procediamo al caricamento degli allegati. Per prima cosa generiamo il modulo di richiesta, ossia la dichiarazione sostitutiva. Cliccando qui la troveremo nei nostri download. Comparirà in questo modo. Controlliamo che tutti i dati siano corretti, vediamo che qui c'è lo spazio per la firma, dunque la stampiamo, la firmiamo e dopo averla firmata la scannerizziamo in modo da poterla caricare. Ricordiamo che tutti gli allegati sono da caricare in formato PDF. Clicchiamo su Apri e poi su Caricare documento. Ora carichiamo il nostro documento d'identità. È sufficiente quello del richiedente, anche in questo caso in PDF, e carichiamo anche il giustificativo di residenza. Ricordiamo che sono considerati documenti validi le lettere ricevute per posto a proprio nome da enti quali Assurance Maladie, Mutuelle, CAF, Banca, Assicurazione, Trésor Pubblic, Pol Emploie, enti di gestione e forniture elettriche, gas, telefono. Clicchiamo su Continuare e vediamo che la nostra richiesta è stata inviata con successo. Quando l'operatore consolare esaminerà la domanda, cambierà anche lo stato. In questa pagina troviamo il riepilogo della nostra pratica. Cliccando su Tornare alla UOM, arriveremo nella pagina iniziale in cui compaiono tutte le nostre pratiche. Qui la variazione di residenza e qui l'iscrizione all'aere. Clicchiamo sulla variazione di residenza per consultare lo stato della nostra pratica, che in questo caso è presentata. Per ulteriori dubbi potete trovare delle risposte nella sezione Domande frequenti e sondaggi.